Ed ora cinema, da domani nelle sale, sulla soglia dell'eternità, film biografico sul genio tormentato di Vincent Van Gogh, Laura Gialli. Mi piace ripingere, devo farlo. Sono sempre stato un pittore, lo so, perché non so fare nient'altro e mi creda, ci ho provato. Inquietudine e bellezza in Sulla soglia dell'eternità si alternano in una affascinante narrazione, quella degli ultimi giorni di vita di Van Gogh, che il regista Julian Schnabel racconta in maniera personale, evidenziando le inquietudini che portano l'artista in un'altrove, dove definire la realtà diviene sempre più difficile. Vedo cose che nessun altro vede, questo mi spaventa e a volte ho paura di impazzire. Ma poi dico a me stesso, farò vedere quello che vedo io ai miei fratelli umani che non riescono a vederlo. L'interpretazione di Willem Dafoe premiata a Venezia con la Coppa Volpi rende vivido ogni passaggio e conduce per mano lo spettatore alle scelta finale del suicidio, dando intensità alle turbolente relazioni dell'artista e forza alle sue opere, la cui carica vitale ancora oggi colpisce e stupisce.